Questo argomento costituisce l'aspetto più intrigante dello yoga. Chi oggi non parla di chakra a proposito e a sproposito perché comunque rappresenta forse un elemento della moda, del trend, quindi con i chakra si individuano i caratteri delle persone, lo stato di salute delle persone e tante altre cose. Questo argomento, questo aspetto molto importante della cultura tantrica dell'India, mi riferisco ancora a quella filosofia che si è sviluppata prendendo le mosse da nozioni che il bramanesimo aveva trasmesso e che nell'epoca medievale dell'India è stata ripresa corredandola però di una cultura che fosse molto più vicina all'uomo, all'uomo comune, all'uomo che non aspirava al divino attraverso le vie dei Veda, le vie dei Brahmana, ma che cercava di valorizzare quelle che erano le possibilità portate di mano perché sostanzialmente il pensiero era questo, se la natura ha dotato l'uomo di certe cose, come per esempio l'alimentazione che può essere varia, come per esempio la capacità di fare sesso con un altro partner e tante altre motivazioni, vuol dire che comunque queste cose servono all'uomo e se l'uomo alla fine può redimersi, non tutti hanno la possibilità di accedere a quell'aspetto culturale e filosofico come il bramanesimo, quindi attraverso la ritualità, attraverso lo studio dei Veda, che poi tra l'altro era riservato solamente ad una classe sociale, ma se è vero è che tutti gli uomini hanno questa possibilità di passare ad una condizione che superi la loro statura medio-bassa come individui pensanti e razziocinanti verso l'elevazione di una condizione superumana, un po' come tutti i filosofi occidentali poi anche hanno ipotizzato, mi riferivo a Nietzsche, ma è un po' questo l'orientamento, il superuomo di Nietzsche non era certamente quello che i tantrici, che i seguaci del tantra ipotizzava, però sostanzialmente la via era quella, superare quella condizione umana che ci tiene legati alla natura con le catene, ma cercare di spiccare il balzo, come? Se questo è un diritto di tutti gli uomini e se tutti gli uomini non possono accedere a quelli che sono, diciamo, le risorse riservate a poche, alle classi sociali più elevate, perché questa ingiustizia? Cioè, questo solamente è una legge che è stata creata dall'uomo per la soprafazione di altri uomini, sostanzialmente questo era il discorso di base. Allora il tantra nasce come riscato dell'uomo attraverso quelle risorse che tutti possiedono, quindi un certo tipo di alimentazione. Voi considerate che l'alimentazione per eccellenza, è vero che comunque chi pratica yoga dovrebbe essere vegetariano? Sì, è vero, perché comunque l'alimentazione vegetariana, adesso va di moda l'alimentazione vegana, allora non esisteva, ma comunque sostanzialmente è questo, cioè l'abolizione di alcuni tipi di cibo, come la carne, eccetera, eccetera, gli alcolici, che sono tuttavia intossicanti al di là di quello che possono essere le frizioni etiche, perché comunque la carne deriva dall'uccesione di bestie e quindi è una forma di violenza attraverso la quale io mi nutro, quindi è sostanzialmente un'impurità. E se questo è vero oggi, era molto più vero ancora nei tempi antichi, dove vigeva una condizione di purezza, la purezza rituale, che era quasi un obbligo per la classe bramanica, oggi è diventata una scelta, però allora era un dovere. Allora il tantra diceva sostanzialmente questo, non tutti possono accedere a queste risorse, perché una persona che nasce di casta bassa innanzitutto non si può accostare ai riti, perché gli sono interdetti. Prendete un fuoricasta, ma è sempre un uomo, è sempre un essere umano, un fuoricasta non potrà mai accedere, una donna non potrà mai accedere all'esecuzione di riti, anche se oggi diciamo che il panorama nell'India è cambiato, perché anche le donne svolgono dei riti importanti, ma nell'epoca era assolutamente proibito. Persino lo yoga era introdetto alle donne, pensate un po', quindi era solamente un'esperienza riservata alla classe, al genere maschile. E quindi tutte queste riflessioni, però sostanzialmente il tantra rifletto su questo, noi dobbiamo riscattarci per avere a portata di mano tutte quelle risorse che la gente possiede normalmente, no? Se il bramanesimo ha dato delle indicazioni dogmatiche, ha detto questo è peccaminoso e questo non è peccaminoso, però facendo questa scelta implicitamente ha escluso determinati ambienti della società, noi rivalutiamo questa possibilità e diciamo che l'uomo si può riscattare persino nell'apparente peccato, cioè se mangiare la carne era una cosa impura, se bevere alcool oppure sostanze inebrianti, se per esempio mangiare cereali in alcune condizioni, soprattutto cereali fermentati, poteva essere peccaminoso e impuro, il tanta rivaluta questa possibilità, dice noi attraverso la degustazione della carne, attraverso le bevande inebrianti, riusciamo a risalire la china, perché questo madre natura ci offre e attraverso la giusta interpretazione di questo noi riusciamo a risollevarci e quindi a valorizzare noi stessi. Persino il rapporto sessuale che era proibito, come oggi, almeno fino a poco tempo fa, succedeva anche in alcuni ambienti religiosi dell'Occidente, veniva praticato se non per scopi procreativi, veniva, diventava impuro, diventava peccaminoso. Addirittura nell'epoca tantrica vengono istituiti dei, diciamo, delle delle associazioni nei templi, quindi associazioni sacre, dove venivano introdotte delle prostitute sacre, dove praticamente il rapporto, diciamo, orgià, addirittura il rapporto, la copula, l'unione tra maschio e femmina, avveniva anche in condizioni orgiastiche, quindi persino con gli animali. Quindi pensate il tantra, come fa piazza pulita di tutto quello che c'era, a patto però, che si facessero a scopo di elevazione. Voi direte, è una bella paraculata questa, perché tutti la pensiamo così, no? No, no, perché non tutti si potevano diciamo. Allora doveva, c'era tutta una ritualità preliminare, l'adorazione della donna come femminilità, i vari passaggi, fino a che la donna non diventava la dea madre. Allora l'uomo si univa alla dea madre nello sviluppo di questa energia che poi chiamavano, definirono Kundalini. Quindi in brava, è stato tutto nell'intenzione. brava, tutto nell'intenzione. Che cosa succede? Che se effettivamente la dea madre crea l'universo, crea le forme, crea gli uomini attraverso una interazione con l'assoluto, con il polo maschile, nei templi sacri il rapporto carnale non doveva avvenire con la moglie, né con persone con le quali si aveva un rapporto affettivo. Doveva essere probabilmente un rapporto impersonale, ecco perché c'erano le prostitute sacre. Allora il praticante si univa e, attraverso una forte concentrazione e meditazione, imitava quello che era l'unione tra la dea madre e l'assoluto, o comunque il principio maschile, per rievocare tutta la creazione dell'universo. Ma voi direte, vabbè, c'era un godimento, c'era un aspetto godereccio. Noi lo vediamo così con gli occhi occidentali, con la nostra malizia, ma lo scopo non era quello, perché chi gli avrebbe impedito di accoppiarsi a una donna? Perché dovevano avere la necessità di farlo in un tempio. Quindi l'intenzione non era quella che noi pensiamo fosse stata, né tantomeno quella che pensano i turisti quando vanno a Kajurā e dicono, ah, quando vedono un uomo che prende da dietro una donna e poi dietro l'uomo c'è sta un altro uomo, c'è sta un animale, quindi bestie, persone, eccetera, tutte in una condizione orgiastica. Tantra è una fortissima, grandissima corrente filosofica dalla quale deriva lo Hatha Yoga, perché lo Hatha Yoga, Hatha significa lo yoga dello sforzo, ma non uno sforzo necessariamente fisico. Lo sforzo nel cercare di rievocare tutte quelle energie latenti nell'uomo, come sono il risveglio di Kundalini, e quindi riportare l'uomo verso la condizione di superuomo. Quindi tutte queste forme, diciamo, un po' spurie di yoga, nascono poi dal Tantra. Allora, con il Tantra nasce tutta questa fisiologia mistica, la chiamiamo così, perché non è una fisiologia anatomica, per cui noi sezionando un corpo umano vediamo il Mooladar chakra, non c'è niente, no? Cosa che invece oggi gran parte dell'editoria proprio spicciola così dà delle informazioni che sono assolutamente incongruenti. Tutta questa fisiologia, i chakra, tutti questi canali, i nadhi, eccetera, sono solamente delle parti di coscienza che sono localizzate nel corpo umano. Quindi sono di natura psicologica, sono di natura introspettiva, non c'è niente di anatomico e di fisico nei chakra, non c'è niente. I chakra sono solamente dei centri privilegiati di coscienza. E naturalmente adesso andremo praticamente a vedere come si situano questi chakra il rapporto ai plessi dell'organismo umano, perché c'è una corrispondenza ovviamente, ma non è la stessa cosa. Allora c'è tutta una simbologia che vuole essere allegorica nella testualità del Tantra, che invece la New Age ha preso letteralmente. Quindi le informazioni si sono un po' deviate, sono state un po' inquinate da questa nuova cultura New Age che ha popolarizzato. Considerate che tutti questi testi tantrici, alcuni se ne sono ancora di non tradotti, perché erano ritenuti segreti. Quindi tutti questi testi, come Sacciagra Nirupana, che è praticamente inserito nel Potere del Serpente, nel libro, erano tenuti segreti, perché riservati solamente a pochi adepti che avevano studiato e accettato di far parte di un clan che studiasse solamente questi aspetti, quindi non potevano essere divulgati all'esterno, anche perché c'erano delle pratiche talmente forti e intense che potrebbero nuocere se non fatte correttamente. Allora io adesso intendo leggervi, introduco i chakra con un breve paragrafo della Shiva Samita. La Shiva Samita è comunque un testo che riprende lo yoga, un testo molto importante. L'Ata Pradipika, lo Shiva Samita, la Granda Samita, sono questi testi che parlano dello yoga così come lo intendiamo noi dal punto di vista della condizione organica e fisiologica dell'uomo. Allora dice un aspirante di yoga deve visualizzare nel proprio Meru sette isole. Allora il proprio Meru è ovviamente qui sta a definire simbolicamente la colonna vertebrale, la montagna sacra, quindi quando noi facciamo yoga e ci riferiamo alla colonna vertebrale non lo diciamo perché abbiamo abbandonato certe simbologie che fanno parte dell'arcaicità, quindi di un pensiero arcaico, però anticamente la colonna vertebrale diventava la montagna che l'adepto doveva scalare piano piano facendo delle successive esperienze e ogni volta che scalava questa montagna trovava i chakra lungo la sua via che sono disposti lungo l'asse della colonna vertebrale. Allora qui dice molto cripticamente, molto simbolicamente un aspirante di yoga deve visualizzare nel proprio Meru, cioè nella propria colonna vertebrale, sette isole che sono i sette chakra dove praticamente raggiunge un diverso grado di consapevolezza. I fiumi, gli oceani, le montagne, i guardiani delle otto direzioni, quindi anche qui i quattro punti cardinali e i loro punti intermedi come riporto io nei cantori dei sacrini, i risci, i saggi, le stelle, i pianeti e tutte le costellazioni, i luoghi sacri, i luoghi di particolare energia e le loro divinità, il sole e la luna e l'origine della creazione, preservazione e distruzione, cioè Brahma, Vishnu e Shiva e il proprio corpo, quindi vedete che il corpo a questo punto da tantra è concepito come un universo a misura d'uomo, un microcosmo. Del proprio corpo i cinque elementi della materia, etere, aria, fuoco, acqua e terra e qualunque cosa esista nei tre mondi del macrocosmo, tutti questi sono sostenuti dal monte Meru ed esistono in esso. Colui che conosce tale segreto è in effetti uno yogi, su questo non vi è dubbio. Quindi vedete che è una prosa molto molto simbolica, quindi c'è da interpretarla, voi capite che uno scritto del genere, dato ad un popolano, che ci poteva capire? No, niente. Quindi erano proprio dei testi che erano molto tenuti segreti e mantenuti all'interno di questi ambienti. Quindi è una descrizione visionaria, allegorica, fantasiosa, ma che si rifecchia a dei punti di riferimento concreti nell'organismo. Ora, io qui faccio tutta una premessa che è molto critica nei confronti di quello che è oggi l'andamento verso lo studio di queste cose, quindi sono molto critico in questo e faccio delle considerazioni. Però cominciamo ad immettere questi chakra che, ripeto, li dobbiamo considerare come punti privilegiati di coscienza, nel senso che questi chakra, come aspetti della psiche dell'uomo, sono localizzati in determinati punti dell'organismo, della colonna vertebrale. Voi sapete che nella colonna vertebrale scorre il sistema nervoso centrale, quindi tutti i nervi afferenti, afferenti, eccetera, eccetera, dove scorrono i motoneuroni che si innervano nei muscoli. Quindi a questo punto il tantra, anche come ha fatto il buddismo con la psicologia, è un precursore della moderna neurologia, perché dice che in questa Montemeru scorre la vita e in effetti, se non lo vediamo dal punto di vista anatomico, se non abbiamo una colonna vertebrale con un midollo spinale che permette lo sviluppo della comunicazione tra sistema nervoso centrale e organi periferici, noi si ha niente, la vita non scorre. Quindi è un precursore un po', vedete come sono in anticipo rispetto a tante altre culture che non si sono mai poste il problema di come l'organismo umano potesse essere interpretato. Allora, per arrivare un po' al sodo di questo discorso, di questo preambolo, i chakra sono fondamentalmente sei, non sette. I chakra sono sei. Il settimo chakra si chiama il loto dai mille petali ed è il luogo di residenza simbolico di Shiva. Qual è allora, diciamo, il progetto dei chakra? Qual è il punto di riferimento di partenza e il punto di riferimento dell'arrivo di questo viaggio che deve fare l'adepto? Fondamentalmente, secondo questa visione, noi siamo maschi o femmine, ma abbiamo una complementarità nella nostra costituzione psicofisica, per cui non siamo mai completamente maschi né siamo mai completamente femmine. Questo non credo di avere inventato qualcosa di nuovo, lo sappiamo tutti. Noi ci sono delle tendenze prevalenti rispetto al sesso che possediamo, ma ci sono anche delle qualità complementari che sono più femminili che maschili in un uomo o più maschili che femminili in una donna. E non possiamo escludere che la creatività è femminile, la poesia è femminile, la dolcezza è femminile, il vigore è maschile, l'irruenza è maschile, la conquista è maschile, la donna è ricettiva, l'uomo è attivo. Cioè sono tutte cose scontate che oramai pure i bambini conoscono. Allora il tantra prende in considerazione queste due cose e dice è vero che ciascuno di noi parte già dalla sua nascita con un sesso già ben definito e non dovrebbe però nascondere e soffocare quegli impulsi che sono complementari, che sono sicuramente secondari, perché se un uomo è un uomo ed è virile come uomo, ma non deve soffocare quell'aspirazione alla dolcezza, quell'aspirazione alla poesia, alla creatività che non sarebbero normalmente di un uomo ma piuttosto di una donna. Al tempo stesso la donna deve sentire che in lei ci sono anche quei sentimenti di forza, di ribellione, di conquista e la donna non dovrebbe soffocare queste cose solo per il fatto di essere donna. Ora questa è una vera e propria ribellione perché il bramanesimo diceva l'uomo è l'uomo, la donna è la donna, l'uomo può fare certe cose che la donna non può fare. Quindi così come fece il buddismo con il bramanesimo che falciò completamente le gambe del bramanesimo, altrettanto fece il tantrismo pur rimanendo nell'ottica dell'induismo, cioè senza abbracciare una dimensione religiosa che non gli apparteneva, rimanendo nell'induismo però falciò. Il bramanesimo è stato veramente un evento che ha raggiunto il suo culmine, dopodiché è cominciato a crollare, quindi vuoi per la ribellione delle correnti filosofiche, vuoi per la ribellione delle correnti religiose, però piano piano ha cominciato a sgretolarsi e così fece il tantra. Quindi dice sostanzialmente in ognuno di noi ci sono delle qualità. Qual è l'equilibrio? Però ricordate che se io parlo di equilibrio, non parlo di un equilibrio fattivo nel senso che è rivolto verso la quotidianità, cioè se io sono padre di famiglia, devo fare in maschio, quindi i miei comportamenti devono essere da maschio, cioè devo andare a lavorare, devo difendere la mia famiglia dai nemici, devo difendere mia moglie da chi intende offenderla, cosa che non potrebbe fare una donna, perché comunque all'epoca aveva meno risorse. Oggi una donna è stata a due ceffone e ti mette cappò, ma allora non era così, la società è cambiata. Quindi diciamo che l'equilibrio non si riferisce alla vita ordinaria, ma si riferisce all'elevazione dell'individuo, all'aspirazione verso l'alto, cioè un equilibrio che mi porta verso la realizzazione finale. Tutte queste correnti filosofiche mirano alla perfezione finale. Allora dice, nel momento stesso in cui la mia componente femminile si controbilancia alla componente maschile, e questo lo si può fare attraverso varie tecniche riprese nella struttura del pranayama, Kundalini, che è l'energia vitale in ogni essere umano, comincia a scalare queste isole, questo Montemeru. Allora, cos'è fondamentalmente questa energia Kundalini? L'energia Kundalini può essere così come lo è per il Purusha, che è inteso in senso universale e in senso particolare e personale, così anche alla Kundalini. La Maha Kundalini è l'energia che pervade l'universo interno, è la forza che fa girare le galassie, che fa girare i pianeti, ok? La Kundalini, che è la Kundalini piccolina, ini significa femminile, più piccola, più ridotta, è nell'organismo umano, ma dice il tantra, ciò che c'è dentro di me, come composizione psicofisica, è nell'universo esterno. Ciò che io non trovo dentro di me non esiste neanche nell'universo esterno, quindi macrocosmo e microcosmo sono due realtà, l'uno grande infinito e l'altro ridotto a misura d'uomo. Quindi, posto questa premessa, io posso considerare l'universo con le sue leggi e vedere quali sono le dinamiche che riguardano l'universo e riproparli dentro di me, in modo da essere in sintonia con l'universo. E posso fare esattamente il contrario, cioè le nostre leggi biologiche sono, tra virgolette, le leggi biologiche dell'universo esterno. Non c'è niente che dentro di me non sia all'esterno, non c'è niente che all'esterno non sia dentro di me. Quindi c'è questa equiparazione. Allora, posto queste premesse, non è difficile capire quali sono i comportamenti perché io guardo la natura, vedo le stagioni e vedo le mie stagioni, vedo i cicli solari e vedo i miei cicli annui. Quindi è molto facile questo paragone, non c'è tanto da districarsi nelle difficoltà e nelle argomentazioni. Però fondamentalmente noi siamo composti di due poli, due estremità. Il polo della specie e il polo dell'individuo. Qual è il polo della specie? È quello che è legato alla procreazione. Cioè se noi procreiamo, manteniamo la specie in vita, la specie umana, ovviamente, no? Se noi smettiamo di procreare, l'umanità finisce, no? E finisce tutto. Quindi il polo della specie è legato fondamentalmente a l'attività riproduttiva e l'attività riproduttiva come avviene con l'eros. Con l'eros. Quindi Kundalini è fondamentalmente un prodotto dell'attività erotica. Quindi non c'è niente di peccaminoso. Il bramanese vorrebbe dire, ah, peccato, grave peccato, perché voi state divinizzando l'eros che è un grosso peccato. Il tantra rivaluta. Quindi se io non posso fare i riti, io non posso fare quello, io non posso fare quell'altro perché sono un fuoricassa, perché voi non mi fate entrare nei vostri regni, nei vostri domini, nei vostri ambienti, io mi riscatterò con le mie possibilità umane. Questo fa il tantra. Quindi l'eros è una forza evolutiva che se rimane lì dove si trova non serve a poco. Ma se l'eros viene usato non per scopi procreativi dal punto di vista dell'uomo comune, ma dal punto di vista rituale, come facevano le puttane nei templi sacri, io sto mimando quella evoluzione della Kundalini che assorge a ricongiungersi con il polo dell'individuo. Quindi noi siamo specie e individuo. Siamo specie come continuità dell'umanità. Siamo individuo come persone dotate di un'anima, di un senso, di una mente individuali. Quindi l'eros è la molla che spinge l'individuo a riconoscere se stesso. Allora, molto simbolicamente e molto metaforicamente, l'elemento femminile è la Kundalini che giace nella zona destinata all'eros, alla procreazione. Mentre l'elemento Shiva, quindi questa è la consorte di Shiva. Voi sapete che nella religione hindu c'è Shiva e la sua consorte. In realtà sono tante consorti che si diversificano nei vari miti, però più o meno il concetto è sempre lo stesso. Quindi se la Kundalini sta giù, cosa fa un amante? Voi dovete considerare che la drammaturgia indiana, il teatro, la danza, si riferiscono sempre alla vicenda di due innamorati, che si separano, si riuniscono, si separano, si riuniscono. Quindi allora questa Kundalini vuole riunirsi al suo sposo che è Shiva, ma per riunirsi al suo sposo si deve purificare, cioè deve andare su, girare, girare, girare attraverso, perforando questi chakra, che sono solamente delle zone particolari privilegiate di coscienza, differenti zone di coscienza, una coscienza sessuale, una coscienza rivolta verso l'amore, una coscienza rivolta verso l'attività sfrenata, ma poi lo vedremo nei chakra, quando ha purificato questi chakra lei finisce e raggiunge la sommità della testa, dove c'è l'otto del mille pe, dove Shiva sta in posizione dell'otto e sta aspettando che questo arrivi. Quando arriva la Kundalini, sale, 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 penetrando tutti i chakra, sarà il suo momento di realizzazione finale e potrà abbracciare il suo sposo e comunque fondersi col suo sposo, perché chiaramente, chiaramente da questa, diciamo, da questa drammatizzazione il fatto è che l'essere supremo, che in questo caso è raffigurato da Shiva, comprende la parte femminile e la parte maschile, ma sembrerebbe che la parte femminile fosse persa nella vicenda umana e quindi questa parte femminile deve riconquistare il suo sposo, cioè deve andare verso l'atto. Nel Sankhya, allora vedete che non si possono studiare queste cose se non si conosce il Sankhya? Vedete che chiave di volta fondamentale? Purush è attivo o no? No, sta lì, non si muove, non si è mai mosso, sta lì dall'eternità. Prakriti attiva o no? È come? Porco Giuda, crea il mondo. Quindi chi è che si deve muovere? La natura, cioè la femminilità. Non è che è il naturo, è la natura. Quindi è Kundalini che deve andare su, non Shiva che deve scendere. Cosa avveniva negli accoppiamenti tra la prostituta sagra del Tempio e il praticante l'ha detto, che c'era la copula, c'era l'accoppiamento. Quando l'uomo stava per eiaculare doveva fermarsi, cioè non c'era il versamento di sé ma all'esterno perché altrimenti sarebbe stato deviato verso la procreazione. Doveva essere una forte concentrazione che fermare l'eiaculazione, trattenerla come spinta e veicolare tutto verso le condizioni psicologiche, cioè aumentare questo potenziale psicologico dell'individuo. Quindi è una eiaculazione psicologica. Se la persona per un errore, per uno sbaglio e per un momento di debolezza eiaculava, quella era finita. Era un rito che non era servito a niente, anzi era stato profanato. Quindi ecco perché a questo punto ci voleva una forte padronanza da parte dell'uomo soprattutto, perché nel momento stesso in cui era il momento dell'acme tutto si doveva fermare fisicamente e tutto trasferirsi a livello psicologico. Allora si realizzava quella trasformazione della natura, dell'essere umano, in sovraumanità. Capite che voglio dire? Era quello il momento in cui l'uomo diventava un superuomo. Quindi il tantra è una cosa che va interpretata nell'uso corretto. In sostanza allora ogni chakra, che ripeto sono sei, il settimo è il lotto da mille pedri, non è un chakra vero e proprio, si situa, quei dieci minuti diamo un'informazione così perché non possiamo fare ovviamente pratica non avendo, non entrare nel dettaglio, però diciamo una descrizione generale, si situa in alcuni punti dei plessi dell'organismo umano. Allora il mula dar chakra, mula significa radice, adar significa sostegno, sostegno della radice. Quindi detto questo deve essere posto nel punto più basso. La radice di un albero non sta certamente in alto, sta in basso. Quindi è il punto principale. Il mula dar chakra è collegato alla zona più bassa, molto vicina, molto vicina ai genitali, non ancora ai genitali, ma molto vicina ai genitali. Questo però non significa niente perché il mula dar chakra è qualcosa che definisce la base di tutta questa colonna, di questo monte Meru. Quindi una montagna, una montagna sacra se vogliamo definirla così, deve avere una base su cui appoggi il picco. Quindi il mula d'ara è il punto dove risiede questa kundalini, questa energia erotica femminile che sta arrotolata su se stessa. La figura la individua come un serpente perché poi la kundalini verrà raffigurata come un serpente. Il serpente è un naturale sacro in India, viene addirittura venerato in alcuni templi. Questo serpente che è girato su se stessi e sta con la testolina giù, sta dormendo. Perché sta dormendo? Perché nell'uomo normale non c'è questo desiderio di superare l'umanità, non c'è questa voglia di superare, di migliorare se stesso, di elevazione, no? Non c'è niente, c'è la ordinarietà della vita comune. Quindi tutte le energie che sono spirituali dentro lui sono assopite, perché non sono messe in atto, perché non sono sollecitate, non sono attivate. Quindi essendo la kundalini un'energia erotica, ma anche spirituale, sta dormendo. Si sveglierà solamente quando la persona deciderà di intraprendere questo percorso. Lo potrà intraprendere solamente risvegliando la kundalini, che poi dovrà darsi da fare così come quando sta sopra il corpo maschile e sta facendo sesso, agitandosi e salendo su fino a ritrovare la dimora del suo sposo che la sta aspettando. Quindi la riunificazione della parte femminile e maschile in ogni persona. Quando il polo della specie si unisce al polo dell'individuo sia una persona completa, perché finché non si riunisce prima è solo sesso, quindi è frutto dell'attività sessuale dei genitori. Quindi non c'è ancora una maturazione psicologica e spirituale. Quando percorre tutta questa strada, quindi attraverso tutte queste pratiche, questo studio eccetera eccetera, diventa una persona completa, formata da sesso, ossia da un corpo che gli deriva dall'unione del padre e della madre e dalla loro interazione e dalla sorredità spirituale che sta aspettando. Allora è una persona completa, allora una persona equilibrata potrebbe in qualche modo considerarsi un purusha vero e proprio, cercando molto forzatamente di unire il sankhia a questa cosa, che sono due cose diverse, ma i riferimenti ci sono sempre. Quindi il puladar diciamo che è una parte che è legata agli aspetti conservativi dell'individuo, gli aspetti conservativi della specie. Quindi quali sono gli aspetti conservativi della specie? La sopravvivenza, la necessità di cibarsi, la necessità di proteggersi. Quindi noi in questa parte dell'organismo umano abbiamo questo tipo di coscienza. Quando ci spostiamo verso il successivo chakra, che è quello legato all'elemento acqua e che è molto vicino agli organi genitali, avremo lo svadistan chakra. Adesso i nomi ve li dico, ma poi li studieremo nel dettaglio. Quindi questa diciamo questa consapevolezza, questa parte privilegiata di coscienza si differisce alla procreazione, quindi allo sviluppo come l'acqua è il seme della vita, quindi la procreazione perché sta molto vicino ai genitali, quindi c'è l'esperienza per esempio dell'adolescente che comincia a sentire il prurito del sesso. Quando sale su e si ferma a livello dell'ombelico c'è il manipur chakra, quindi c'è questa forza di ricercare di mettere in primo piano la propria personalità, perché lì ancora non nasce, poi nasce, poi si sviluppa come individuo e è un po' l'ankara. Sono io e io devo essere distinto dagli altri, l'ego ti porta anche a sopraffare gli altri, quindi nel manipur chakra c'è questa forza irruenza e il simbolo è la riete, quindi c'è un particolare stato di coscienza, questo è lo sviluppo della personalità massima, umana, ma noi non dobbiamo rimanere a questo livello, dobbiamo salire e qui nel cuore troveremo il loto dell'amore. L'amore non sessuale, ma l'amore inteso in senso generale dell'amore verso gli altri, l'amore compassionevole, l'apertura verso gli altri, la comprensione degli altri, l'accoglienza, quindi c'è un altro sentimento che comincia a purificarsi. Oltrepassato questo chakra, in maniera molto molto breve ve lo sto raccontando, arriviamo a vissuta chakra che è il plesso della gola, quindi questo amore deve avere una fonte di comunicazione con l'esterno, nella gola c'è l'organo vocale, quindi è un po' la parola pura, quello che diceva il buddismo, la parola deve essere retta parola, perché la parola è importante come comunicazione con gli altri, se io dico una falsa parola, una parola sbagliata, io magari sollecito un destino sfavorevole in quella persona, quindi qui c'è la purificazione, poi piano piano si sale ancora e si ha i nagya chakra, qui c'è il momento di abbandonare l'umanità e di salire verso l'alto, qui finisce l'umanità, qui comincia il sovrumano, l'essere sovrumano, il superuomo, tra qui e qui c'è un abisso, cioè si abbandona l'umanità e si va verso l'elevazione, quindi verso il completamento, dove Kundalini si abbraccia il suo sposo e diventano un tutt'uno, una realtà pacifica, unitaria, non c'è più la differenza tra maschio e femmina, ma c'è una realtà che non si distingue più, si distingueva prima finché rimanevamo nel genere del sesso maschio e femmina, dopo non si distingue più, così come il Purusha non è maschile e femminile, ma alla fine è tutto ciò che comprende dentro, quindi questo fondamentalmente è la mappa dei chakra. Ora, ci vedete qualcosa di materiale dentro? Grazie a tutti!